La tana del freddo Tana, tana del freddo 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 Mi chiamo e ti distruggo No, ti prego Ti faccio le domande, è finita la tua carriera Prego, si muovi pietà di me Che figa, madonna quant'è bella Che bella, che figa, molto bella lei Bella, bella, che topa, bella Sofì Grazie Non è vero Domande Sofia Allora, iniziamo subito con delle domande per calibrare la macchina Ok, quindi Saranno delle domande molto semplici, ti chiedo quando rispondi Se puoi stare un po' ferma così nella macchina Il tuo nome è Sofia? Sei nata il 10 ottobre 2003 a Legnano? No Minchia, sei un fenomeno Sei nata il 10 ottobre 2023? 2023 Sei nata il 2003? Sì Hai paura per queste domande? Sì Ne ne faccio un'altra Hai capelli con le mesh? No, perché sono... Hai un microfono attaccato? Sì Va bene, ti chiamo? Ne ne faccio un'altra Hai le unghie lunghe? Sì Ok Sofia, tu sei contenta del lavoro che fai? Sì Sei contenta dell'immagine che ti sei creata sui social? Sì, ma potrei fare di meglio Quindi sicuramente cercherò di ripulirla un po' Che rapporto hai con i tuoi fan? Sei mai diventata amica di qualcuno? Sì, ho un bellissimo rapporto, sono molto sincera Quindi è capitato spesso che magari qualcuno mi scrivesse e parlassimo tutta la notte Poi magari ci incontrassimo Ti infastidiscono a te invece i continui articoli che vengono pubblicati nei tuoi confronti? Dipende Ci sono alcuni che magari sì E quindi come fa Gaia scrivo gentilmente se possono rimuoverlo E lo fanno? Sì La maggior parte delle volte l'hanno fatto Poi magari c'è qualcosa che non fanno Quindi lascio correre Ti sei mai buttata le foto Instagram? Mi sono mai Comprata i like, fatto delle robe, dei magheggi per avere più like su Instagram Quando avevo tipo 14 anni Quello anch'io Forse 13 anni Ok In un altro profilo che non è questo Quello che ti mettevi like e avevi le monete Esatto, sì, esatto Quello da tipo a 12 anni, 13 anni così Infatti io ai tempi mi ricordo come sono like una foto per una moneta Ma non è vero Sì, sì, mi ricordo Infatti per questo posto devo rivedere Però non era su questo profilo Su questo profilo mai Su questo profilo mai? Mai Ti sei mai photoshopata il culo in una foto? Tipo nel 2021 in una foto con un'altra ragazza Non facciamo i nomi Ah ho capito quale, pensa Pensa a te Era veramente terribile quella foto Oltre che al personaggio Sinceramente Pensi che il fatto di essere una mamma giovane Ti abbia facilitato lavorativamente? Dipende da che punto di vista lo guardi Quindi non ti posso rispondere sì, no Perché ci sono alcuni lati magari sì Però in molti lati Tanti lavori magari non si possono fare con un bambino O ti limita anche in altre cose Tipo? Ma dipende nel senso che magari Ti propongono di stare tre mesi via Per un lavoro Ovviamente non potrai mai farlo Da quello che vediamo E quello che hai detto Hai deciso che condividerai sui social Tuo figlio Tiago Pensi che ti potrei mai pentire di questa scelta? Probabilmente in un futuro Quando avrà un'altra testa potrebbe essere Al momento ti dico di no Da inizio anno indicativamente Hai guadagnato più di 100.000 euro? Sì Cioè in due hai comprato una casa ragazze Potremmo andare a vivere assieme in una casa? Nuovo progetto casa so figa? No, no, no Guarda Non vivreste mai assieme? Ci scanneremmo Parliamo di like Io vorrei fare il contrario Cioè mettere la macchina Va bene anch'io Va bene Che cazzo vuoi dire? E allora? E allora qua? E allora cosa ti Sembra che ti Ho detto che potete comprarvi una casa Non è che ho detto Mamma mia che vergogna Anche tu potresti farlo? Anche tu potresti farlo Eh sì Invece sono in affitto Pensa che pirla Parliamo di like Sei una persona che fa una quantità di like Stratosferica su Instagram Ti piace questa cosa? Ci tieni particolarmente? Non particolarmente Ma ci tengo Se una foto fa meno like delle altre Ti giro il cazzo? Allora se una foto magari fa 300.000 like in meno di un'altra Sì mi giro il cazzo Visto che sai che non è possibile questo Ti sto dicendo Se una foto che fai Ti parlo di una foto Magari ti fa 200.000 like Una foto te ne fa 130 Ti gira il cazzo sì o no? Mi dà un po' fastidio Però non è che mi gira il cazzo così tanto Hai mai tolto Sentiamolo? Sì Hai mai tolto una foto Perché aveva fatto pochi like? Non nell'ultimo periodo Tanto tempo fa sì Cioè ora la vedo in modo diverso Prima la vedevo più così Ti faccio una domanda più scomoda Entrando sempre più deep in questa cosa Tu sei consapevo del fatto Che mettendo Tiago nelle foto Fai più like? Sì Ma perché Tiago è un bambino super amato Alla gente piace Ma non è che io lo metto perché alla gente piace Cioè se no metterei tutti i miei post con Tiago E non è assolutamente così Proprio ieri è stato il tuo compleanno Vero? Sì Hai fatto 20 anni Esatto Hai organizzato una festa Hai invitato qualcuno solo per convenienza? Per fare una storia O avere la storia con quella persona? Assolutamente no Anche perché non ho chiesto a nessuno di fare storie Né io ho fatto storia apposta con qualcuno Quindi assolutamente no E ti faccio invece questa domanda ancora più profonda Pensi che qualcuno sia venuto solo per convenienza? Sì Che non ho invitato io Sofia Molto sincera devo dire Cioè veramente complimenti Pensi di essere nella top 5 delle influencers più belle d'Italia? No Ci prese Hai mai ricevuto proposte lavorative che hai rifiutato perché volevano solo sfruttare l'immagine di tuo figlio? Non me le hanno mai fatte su mio figlio Qualcosa? Non so Un brand di passeggi? Cazzo ne so Sì ma non Cioè non mi hanno mai chiesto la partecipazione di Tiago nei video Ok O comunque l'avrei rifiutata Vita privata E qua Schiariamoci bene la voi Pensi di aver avuto un'infanzia triste? No per niente No non ho avuto un'infanzia triste Ho avuto più un'adolescenza triste Questo sì Quindi magari ti sbalza perché stavo pensando all'adolescenza Però comunque La mia infanzia Infanzia io considero fino a 14 Ah no allora sì Hai avuto un'infanzia triste? Sì Cioè io l'infanzia intendevo magari quando ero proprio piccola 3, 4, 5, 6 anni L'ho sempre vissuta molto bene Vabbè ok Poi dopo Inizia tipo media, superiore Ok quel periodo lì L'ho vissuta molto male Ok bravo Sgamata I tuoi genitori pensi che siano fieri di chi tu sia oggi? Sì Molti ti criticano di non essere una buona madre Tu pensi di essere una buona madre? Sì o no? Sì ma sicuramente Sì o no? Sì Io penso di essere una buona madre Però io penso Stata 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 Pensi di essere una buona madre? Sì Pensi di essere una buona madre ma? Eh lo stavo cercando di spiegare mi ha bloccato Ok 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 Perché penso che le cattive madri siano totalmente altre Che facciano cose totalmente diverse da quelle che faccio io Ma allo stesso tempo penso di poter fare molto di più Di poter dare molto di più a mio figlio Ti è mai capitato in qualunque contesto Di non mettere Tiago al primo posto? Prova a rifarmi la domanda un po' Non ho capito il senso Nel senso che magari può esserti capitato nella tua vita di dire Vorrei fare questa cosa Non posso perché devo stare con mio figlio Vabbè Ah me la faccio Mi è capitato ma non lo mettevo al secondo posto Nel senso che sapevo che potevo passarci lo stesso nel tempo di qualità O comunque No 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 attenzione Non dico di aver passato poco tempo Non abbastanza tempo con lui Non capisco Sai che quella sera lì devi andare a fare una serata Ok Ad esempio Cioè Tiago a casa Che rimarrebbe da solo Nessuno può andare da lui Ti è mai capito di dire vabbè o vado a far serata? Ovviamente no Ma mai Ma neanche per l'anticamera del cervello Mio figlio l'ha sempre solo nella mia vita lasciato con mia mamma Con mia nonna O con l'altra sua nonna Cioè non è mai stato con nessun altro E ti faccio questa domanda Pensi che Tiago passi meno tempo con te rispetto a quello che la gente pensa? Nel senso la gente pensa che io passi pochissimo tempo con lui Perché io non lo posto ogni giorno Su ogni social Magari se non posto per un mese TikTok con Tiago La gente mi dice Ah Tiago dove è finito? Dove l'hai lasciato? Perché io non posso TikTok con lui Ma ciò non significa che ogni due secondi che sto con mio figlio Vado a farmi TikTok con lui Chiaro, chiaro, chiaro Capita quando mi va Ti chiedo Ti manca qualcuno? Sì Hai pensato a una persona precisa quando te l'ho chiesto? Sì Nessuno dei miei ex Volevo dirlo perché Sennò la gente pensa male Parliamo della tua ormai ex relazione Con tutti sappiamo chi Ovviamente non essendo presente questa persona Non farò solo domande autoreferenziali su di te Perché non vorrei mettere ovviamente in difficoltà persone che non ci sono Questa persona in questo momento ti manca? No Wow Pensi di essere stata davvero innamorata di questa persona? Sì Molto spesso Vorrei precisare una cosa Prima che la gente pensa male Che escono le clip magari su TikTok Infatti secondo me con la prossima domanda già è una risposta Ok Andiamo Molto spesso le ragazze Come anche i ragazzi va bene Possono pensare del proprio partner Che non ammiranno mai nessun altro come amato quella persona Non era questa la cosa che volevo dire Posso dirla loro? Non è che io da un giorno all'altro ho detto basta non lo amo più E quindi magari la gente pensa Dato che io ho annunciato la rottura poco fa La gente pensa che magari in tre giorni me lo sono dimenticata e non lo amo più Cioè ovviamente io non ho mostrato tutto della mia vita privata E quindi ci sono stati tanti tanti mesi In cui le cose non sono andate bene E piano piano ho capito che non ero più innamorata di questa persona Quindi non è che io I miei sentimenti così a caso svaniscono Ok Ti chiedo questa persona secondo te Come dire Riassumo la domanda Cioè pensi che riuscirai ad amare un'altra persona Come hai amato questa persona? Io me lo auguro Hai mai nascosto qualche relazione sui social nel passato? Relazione seria no mai Relazione seria ma seria Magari tipo il sentirsi sì Cioè magari mi sono sentita per un periodo con una persona Anche qualche influencer magari? No No? Ma io non sono stata contenta di influencer Sono messo in dubbio Perché mi vuole attaccarmi Non ti sto attaccando? No no mi sono sentita attaccato Sofia hai mai tradito in una relazione? Sì è successo in passato Ok Mi sono pentita non l'ho mai più fatto Non l'hai tradito di recente? No Hai tradito di recente? No Sei mai stata vicino a una persona Solo perché magari questa ti poteva far comodo? No ma proprio perché non Cioè non sono fatta così È proprio una cosa che non mi piace Né se lo fanno con me Io non lo farei mai con nessuno Ok sentiamo qua Un curioso Un po' agitata Forse la Tutta la live No 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 In questo momento No comunque giuro su mio figlio Non ho mai fatto una roba del genere Ma mai Magari indirettamente Perché è una domanda molto ampia Quindi magari Nella tua testa ti pensavo tante cose Anche banalmente Non so dire Ma sì dai Vado in questo posto Perché Ci sono queste persone Che comunque Ma io sono sempre andata nei posti magari dove c'era gente che mi stava simpatica Poi che le persone avessero 10 milioni di follower O che ne avessero 3 Non c'è non mi cambiava Poi in senso poi la gente può vederla così Perché magari sono andata in quel posto e quella persona aveva 10 milioni di follower Cioè no assolutamente Ma perché segnava il contrario Ma visto che ero un po' giù No c'era un picco di Probabilmente eri agitato Comunque ti è tornato in mente qualcosa O l'hai associato a qualcosa che poteva Secondo me può essere Perché anche io ho associato a qualcosa Ma non in maniera negativa Ma magari sul contrario sicuramente Però io cioè veramente Non sono il tipo di persona Ma chiunque mi conosce lo sa Hai mai fatto uso di droghe oltre le canne? No Cioè i palloncini dici? No 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 droghe Ma io le canne non me le faccio da 3 anni Perché a me le droghe fanno paura Da quando hai avuto un figlio Giustamente ti sei presa delle responsabilità in più Se vedi la te di qualche tempo fa Ti trovi tanto diversa? Moltissimo Ti manca Questa è la domanda di cui volevo sapere la risposta Ti manca un po' quella spensieratezza che poteva avere un tempo? Sì Poi diamo del tuo aspetto fisico Ti sei rifatta qualcosa? Sì Cosa? Il seno e i denti Ti rifaresti qualcos'altro? Sì Cosa? Dipende cosa mi andrà di fare Ora? Ora in questo momento non mi rifarei nulla Però magari un giorno mi sveglio Mi guardo alla specchia Dico non mi piacciono Non so Gli occhi Mi faccio i foxy eye Cioè non lo so Al momento non me lo farei mai Secondo me non me lo farei mai Però non lo so Un giorno magari Non ho niente contro la chirurgia plastica E se qualcuno mi vuole dire che ho fatto il filler E il mio filler Gli ho fatti Non sono rifarsi completamente Perché svaniscono nel tempo Di permanente ho fatto i denti Si è pentita? No Lavoro e colleghi Eri con Gaia quando Ti sei fatta cagare in bocca a Dubai? Ma io non sono mai stata a Dubai Sono mai stata a Dubai? No Di recente È uscito un dissing Con una persona che aveva fatto dei complimenti al tuo ex fidanzato Avete chiarito? No Perché parla di me tutti i giorni in live Ti sta simpatica? No Le vuoi No Vorresti morire? Sì E magari addirittura la gente pensa ancora Che voi siete in beef Ma in realtà è tutto a posto Sì Quindi tu pensi che ci siano delle persone Che la gente pensa Sono loro due si odiano Ma in realtà non c'è niente tra di voi Allora Puoi farvi degli esempi sui? Cioè c'è stata una persona con cui ho litigato pesantemente Anche pubblicamente E anche in live da te Oddio Ma chi era? Non lo potete dire Ma no Dai mica Era in live Chi era? Ah no Aspetta Oddio sì Ho capito chi era Non mi ricordo il nome Vabbè Meglio così Poi dopo anni La cosa si è un po' sfumata Quindi abbiamo parlato La cosa si è chiarita Non c'è un rapporto tra noi Nel senso Però Ciao ciao Finito lì Ok Vabbè Credo Va senza allineare Ti capita mai di sparlare di alcune tue amiche con altre persone? Sparlare in senso negativo Sparlare male No Parlare male negativo no Lo fermiamoci su questa Cioè se magari C'è tipo un comportamento di Gaia Che mi dà fastidio Anche se Gaia è mia sorella Mia amica Io parlo con Che ne so Alice Che è un'altra Nostra Perché dico Perché Gaia non cambia questo suo atteggiamento Perché No 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 Attenzione Però non c'è Non è che vado a dire Eh Gaia mi ha rotto il cazzo Ho fatto questo C'è No 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 Magari Semplicemente andare da una persona Che magari non fa parte neanche dei tuoi amici stretti Magari parlate di Appunto Gaia O non so una tua amica E magari gli dici una roba che Insomma se Gaia sapesse che gliel'hai detta Direbbe sei una stronza No assolutamente no Vero? No 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 Sei una persona a cui piace il gossip Sì Parliamo delle house dei tiktoker Ne faresti mai parte? No Hai mai ricevuto richieste di farne Sì Perché finire domande Però per favore Ma anche proprio i tempi televisivi Perché l'ha già sentita Eh Sì sì Ti hanno proposto dei soldi? Eh Che io mi ricordi Sì Ma non mi ricordo le cifre Perché si parla tipo di due anni fa Più o meno di 500 mila euro? No meno meno Poi per due anni fa Avrò avuto 100 mila follower Forse anche tre anni fa Ti piacerebbe se in futuro Tiago Lavorasse sui social in qualche modo? Sì E ti faccio un'altra domanda Che non ho scritto Ma mi è venuta in mente adesso Cosa diresti a Tiago? Se saresti felice di Tiago Se fosse un trepperino? Aspir Cioè Penso e spero Che mio figlio Aspiri a una vita migliore Torniamo a parlare di lavoro Hai tantissimi follower su Instagram Per quanti soldi Chiuderesti il tuo profilo Senza mai più poterlo riaprire? Non dirmi nessuno Un miliardo No Da mio miliardo Io vado a fangulo con tutto Questa qua mi voglio concentrare su questa domanda 10 milioni di euro No Dai Sofia Dipende se tu Cioè con 10 milioni di euro Capisci che cosa fare della tua vita Investi benissimo i tuoi soldi Mi sono fatto la domanda Mi interessano gli investimenti vari Tu in questo momento Se ti dico Ti do 10 milioni di euro Chiudi il profilo di Instagram Non lo riapri più Rispondimi adesso Sì o no? Adesso dentro questa valigetta qua Adesso Impatto Oddio che palle Non lo so Porca miseria Cioè non lo so Non credo comunque Veramente Allora di no No Eh ma non è vero Ma non è vero Ma non è vero Ma dai Sofia 10 milioni di euro Ma li prendi al volo Ma anch'io lo farai Ma anch'io prendere 10 milioni di euro al volo Ma non per chiudere tutto nella mia vita Cioè cosa c'entra E in social ci vivo ogni giorno Ho capito 10 milioni di euro Eh ho capito Ma 10 milioni di euro Vai dai Non maschi Ti do 10 milioni di euro Vieni qua Non viene Grazie a cazzo Non hai 100 miliardi Esatto E quindi io vorrei avere 10 milioni di euro al volo 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 ti faccio delle domande ovviamente scomodo non è che ti posso chiedere se ti piace il prosciutto se mi piace mi hai mai odiato? no odiato no mai ti sono mai stato antipatico? qualche volta no ma cioè qualche volta magari in qualche situazione però ti voglio bene non ti dirò mai ti odio mi sento antipatico ora ti sono antipatico? no assolutamente no sfera sessuale Sofia a che te hai perso? ma perché tu a me non me lo dici che ho tutti i bonus in questa parte a lei gli hai detto? no non li hai no perché sei più grande di lei lei è piccolina non è giusto eh ma un anno fa tanto 4 mesi ma lei fa sera tutte le sere più fragile dai tu sei una mamma una donna forte dai senti ti piace scopare a 90? si vuole non l'ho scritta davvero non l'ho scritta davvero era per gesto ma sei assurdo no 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 era per stemperare era per stemperare ti giuro sei assurdo si vuole Sofia Crisa funghi eccoci mamma mia se vuoi dircelo a che età hai perso la virginità? sempre detto 14 ah l'avete perso insieme? in un'orgia magari non lo so ok vuoi capire sono stata criticata tantissimo su questa cosa io l'avevo detto già anni fa Gaia l'ha detto oggi per la prima volta hai fatto sesso con più di 10 ragazzi diversi nella tua vita? ah pensavo con più di 10 ragazzi insieme si hai fatto sesso con più di 20 ragazzi diversi nella tua vita? bonus bonus chiamo questa bonus hai mai fatto una cosa a tre? no mai molto agitata non so ma non è vero ragazzi giuro cioè non l'ho mai fatto veramente passiamo così no giuro veramente è vero giuro non l'ho mai fatto no mai hai mai avuto esperienze con una donna? si hai mai proposto a qualche tuo ex oppure già vedo che sorridi anzi facciamo così hai mai proposto a qualche tuo ex di fare una cosa a tre con una ragazza? si vabbè l'hai fatta? no ti ho detto prima che non ho avuto niente a tre com'è possibile che gliel'abbia fatta? però intanto le proposte forse per quello che magari è venuto prima un po' così perché in realtà sempre devi avere la proposta quindi magari è un po' sì ma per scherzo cioè non seriamente quindi non l'avresti fatta? no sincero no perché non sarei ok io sono a posto così ah è vero scusa un attimo scusa migaia hai mai mentito durante queste domande non sei stata sgamata? no l'unica volta che non ho detto niente ho avuto il bonus quindi lineare è stata molto molto sincera è tutto un paradosso sono solo un pazzo quest'amore so che sparirà ora non mi muovo ma nemmeno stacco canto solo e faccio na 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 ma non posso fare poi le cose sì quelle che dici ma come possiamo fare se grazie a tutti